Ciao e benvenuto alla decima settimana di Summer Discovery, la serie di video in cui conosciamo insieme i 12 giochi scelti ogni volta per questa fantastica promozione. Ogni mercoledì per tutta l'estate troverai su DungeonDice.it 12 giochi appartenenti allo stesso genere, accuratamente selezionati per te, con il 25% di sconto, riservato agli abbonati VIP. Il tema dei 12 giochi di questa settimana è Medioevo. Facciamo quindi un tuffo nel passato e andiamo a vedere insieme quali sono. Iniziamo con la Big Box di Carcassonne, pubblicata da Giochi Uniti, che ti permette di avere in un'unica scatola il gioco base e ben 11 espansioni tra grandi e piccole, liberamente integrabili tra loro. Carcassonne, oltre a essere il nome della famosa e affascinante città nella Francia meridionale, è anche uno dei giochi più famosi e di successo mai realizzati. Da 2 a 5 giocatori rivelano le tessere che rappresentano alcuni elementi di un paesaggio medievale e le piazzano in modo da costruire uno scenario che turno dopo turno verrà ampliato con città, monasteri, strade e campi. Via via che vengono piazzate le tessere i giocatori inviano i propri seguaci sul territorio per estendere la propria influenza sulle singole aree e in questo modo ottenere i preziosi punti vittoria. Chi riuscirà a controllare le città più maestose, le strade più lunghe, i campi più popolati e i monasteri meglio integrati nel paesaggio otterrà più influenza e dominerà il sentiero della vittoria. Occhio però a concludere quello che ha iniziato. Altra big box di un altro grande classico del gioco da tavolo moderno, Catan, anche questo edito da Giochi Uniti. In questa scatola oltre al gioco base troverai l'espansione per poter giocare fino a 6 giocatori, le mappe della Corsica e di New York con regole speciali per portare Catan nel mondo reale con un'esperienza di gioco diversa rispetto al solito e due scenari bonus, grandi amici e aiutanti, con nuove regole e nuovi componenti. Inoltre è incluso anche Catan gioco di dadi, un comodo e veloce formato per portare ovunque il tuo Catan preferito. Pax Viking è un gioco di strategia, commercio e diplomazia per 1 o 6 giocatori ambientato nel X secolo e pubblicato da Sierra Madre Games. Il gioco si concentra sui vichinghi che hanno viaggiato verso Est, verso le ricche vie commerciali della Persia e quelle intorno al Mar Nero. In queste terre dovrai dimostrare le tue capacità quando si tratta di argento e asce, formando alleanze e influenzando le società. Espandendo il tuo dominio però l'amministrazione del potere diventerà più complicata, lungo la strada per diventare il primo monarca svedese. Riuscirai in questa impresa? Tournament at Avalon è un gioco per 3-6 giocatori pubblicato da WizKids che ti porterà nelle terre in cui è stata forgiata Excalibur. Si tratta di un gioco di carte in cui impersonerai un personaggio leggendario che dovrà combattere contro i suoi avversari a colpi di carte. E' un tutti contro tutti, fino a quando uno dei giocatori si troverà in punto di morte e a quel punto il giocatore più in salute sarà dichiarato vincitore del torneo. Durante le partite non mancheranno i colpi di scena, con combattenti che sembravano ormai spacciati capaci di arrivare a una vittoria insperata, magari grazie all'aiuto di compagni speciali. Tournament at Avalon è combinabile con Tournament at Camelot per aggiungere un ulteriore livello di profondità e complessità alle tue partite. Nello small bundle di Crypt troverai due copie del gioco e l'espansione Varianti di gioco che ti permetteranno di giocare a questo divertente gioco edito da Gate on Games in partite fino a 8 giocatori. Crypt è ambientato in un regno in cui il re è morto e si è fatto seppellire con tutti i suoi averi in barba agli eredi, interpretati dai giocatori, i quali però intendono recuperare ciò che spetta loro facendo intrufolare nella Crypt alcuni loschi figuri appositamente assoldati. Usa i dadi per aggiudicarti gli oggetti migliori, perché solo il più ricco alla fine della partita sarà il vincitore, ma attento a non chiedere troppo ai tuoi sgherri, perché altrimenti avranno bisogno di riposo e non potranno essere utilizzati. Riuscirai a recuperare la tua eredità? Visconti del Regno Occidentale è il terzo e ultimo capitolo della trilogia del Regno Occidentale, portata in Italia da Fever Games. Giocabile da uno a quattro giocatori, in Visconti del Regno Occidentale troverai lo stesso stile dei primi due, ma con un gioco completamente diverso, che saprà immergerti ulteriormente in questa saga. Lo scopo sarà quello di essere il giocatore con più punte vittoria al termine della partita. Punti che possono essere guadagnati costruendo edifici, scrivendo manoscritti, lavorando al castello o acquisendo nuove terre. In qualità di Visconte dovrai garantirti anche l'appoggio del popolo, nel caso ci fosse un improvviso cambio al potere. Manda i tuoi paesani in giro per il Regno per aumentare la tua influenza, fino a quando questi raggiungerà la povertà o la prosperità, mettendo fine alla partita. Sarai tu il miglior Visconte del Regno? Last Bastion è una rivisitazione in chiave fantasy del celebre gioco cooperativo di Ghost Stories. Questa nuova versione, giocabile da 1 a 4 giocatori e pubblicata da Asmodea Italia, presenta una ripulitura generale delle regole e una serie di miglioramenti e bilanciamenti in grado di rendere questo piccolo capolavoro ancora più sfidante, teso e divertente. In Last Bastion vestirai i panni di un eroe, riuscito nell'incredibile impresa di rubare i più preziosi artefatti della regina funesta. I terribili servitori della regina ti assalteranno senza sosta. Il tuo compito sarà quello di resistere fino all'arrivo dei rinforzi, collaborando con gli altri giocatori nel migliore dei modi per riuscire a portare a casa la pelle e il prezioso obiettivo comune. Last Bastion inoltre contiene un kit di materiali migliorati, con gli eroi che hanno ciascuno la propria miniatura e nuove plance dalla grafica, assolutamente accattivante e coinvolgente. Riuscirai a salvare il regno? Slide Quest è un gioco per 1 o 4 giocatori di Blue Orange Games che ti permetterà di aiutare un coraggioso cavaliere nella sua eroica missione per salvare il regno da un gruppo di malvagi invasori. Cooperando in modo preciso e ben coordinato con gli altri giocatori dovrai spingere letteralmente l'eroe verso una serie di incredibili scenari in cui evitare pericolosi abissi e bombe esplosive, oltre che sconfiggere potenti mostri. La meccanica di gioco assolutamente originale ruota attorno al piccolo eroe che, dotato di una sferetta all'interno, dovrà scivolare con il tuo aiuto sulla plancia di gioco, aggirando i vari ostacoli e raggiungendo di scenario in scenario il suo obiettivo. Missione dopo missione avrai l'occasione di portare a termine una vera e propria campagna, fino a sconfiggere il boss finale, o almeno fino a provarci. Sarai abbastanza abile e coordinato da muovere la plancia con una precisione millimetrica tale da far arrivare l'eroe alla fine della sua pericolosa avventura? Shy Monsters è un gioco per due giocatori di Gate on Games, in cui uno interpreta un coraggioso cavaliere che dovrà riuscire a fuggire dai tre livelli del sotterraneo sapientemente costruito dalla Signore dell'Oscurità. L'altro. Il cavaliere percorrerà il sotterraneo un piano alla volta, sfidando i due mostri lasciati a guardia di ciascuno di essi. Il suo arsenale è estremamente risicato, un unico salto e un'unica stoccata a ogni piano. Il primo passo falso e la sua avventura terminerà in modo spiacevole. Il Signore Oscuro tesse invece la sua tela, posizionando in modo nascosto le tessere del dungeon a sua disposizione, mostre inclusi, cercando di rispettare il loro pattern di posizionamento per attaccare il cavaliere, se questo dovesse entrare incautamente nella loro tessera. Un passo alla volta il cavaliere dovrà riuscire a raggiungere le scale che lo porteranno al livello successivo, provando a intuire quali mostri sono stati messi a guardia di ciascun livello in base alla forma del dungeon. Dovrà utilizzare con astuzia e parsimonia le sue abilità, mentre il cattivo potrà bleffare spudoratamente nel posizionamento delle tessere per mandare l'eroe fuori pista. Un'impresa eroica decisamente degna di tal nome. Tutto questo è Shy Monsters. Sarei abbastanza abile e coraggioso per raggiungere l'ultimo livello del sotterraneo? Once Upon a Castle è un coloratissimo e divertentissimo roll and write per 2-4 giocatori, edito da Blue Orange Games e adatto a tutta la famiglia. Lo scopo del gioco è quello di raccogliere in modo sapiente le varie risorse per riuscire a costruire un fiabesco castello sul tuo foglio di carta. Lancia i dadi e utilizza le risorse uscite per compiere le variazioni a tua disposizione, procedendo così alla realizzazione di uno stupendo castello incantato. Il più abile nel riuscire a incastrare l'utilizzo delle varie risorse nel momento giusto avrà l'occasione di essere proclamato re del proprio castello. In pratica Once Upon a Castle è un gioco dalle regole semplici, piacevole e adatto a tutta la famiglia. Orléans è un gioco per 2-4 giocatori pubblicati in Italia da Cranio Creations che ti porta nell'area della Loira, in Francia, dove si trova l'omonima cittadina. Dovrai riuscire a sfruttare al meglio i lavoratori che inserirai nel sacchetto e che, una volta estratti e posizionati sulla plancia, ti permetteranno di svolgere le azioni che ti daranno la possibilità di espandere la tua rete commerciale o costruire centri di scambio o anche di investire nella ricerca e nella forza della tua guarnigione. Ogni azione è fondamentale e ogni lavoratore ha il suo utilizzo. Starà a te farli rendere al meglio per sfruttare le molte opportunità che il gioco mette a disposizione. Il più abile a farlo sarà colui che dominerà sugli altri vincendo la partita. Sarei tu! Inis catapulta da due a quattro giocatori nella tradizione celtica, mettendoli a capo di una delle tribù dell'isola con l'obiettivo di essere eletti unici indiscussi re di tutti i clan. In questo gioco, edito da Matagò, avrai la possibilità di reclamare questo prestigioso titolo in tre diversi modi. Proclamando la supremazia per leadership, per il possesso delle terre, oppure dimostrando il tuo primato religioso. Quale che sia il modo in cui proverai a diventare re, dovrai utilizzare al meglio i membri del clan e le carte azione che di turno in turno otterrai. All'inizio di ogni stagione di gioco costruirai la tua mano di quattro carte azione con un semplice meccanismo di draft. Alcune carte ti permetteranno di spostare i membri del clan, altre di reclutarne di nuovi, altre ancora una serie di azioni speciali tra cui la possibilità di combattere gli avversari o costruire nuovi edifici sull'isola. Avrai poi l'occasione di ottenere altre carte controllando alcuni particolari territori o pregando ai templi delle divinità. Solamente costruendo una mano di carte con azioni efficaci, leggendo la strategia degli avversari e utilizzando l'azione giusta nel momento giusto, potrai ambire al prestigioso titolo di Inis. In questo bundle è compresa l'espansione Seasons of Inis, che oltre a portare il numero di giocatori massimo a 5, include diverse modifiche al gameplay e alle condizioni di vittoria, per partite sempre diverse. Questi erano i 12 giochi della Summer Discovery di questa settimana, tutta a tema Medioevo. Hai tempo fino a martedì 24 agosto per approfittare del 25% di sconto su questi titoli, ma ti ricordo che la promozione è riservata agli abbonati VIP di DungeonDice.it. Siamo quindi arrivati alla fine di questo video, non mi resta che ricordarti di iscriverti al canale e darti appuntamento a mercoledì prossimo per altri 12 giochi della Summer Discovery di DungeonDice.it. Siamo arrivati alla fine di questa settimana,